Se io mi ricordo, ad esempio, che pochi giorni prima di quotarci era successo un casino a Dubai, non mi ricordo se era sul mercato immobiliare o qualcosa del genere, quindi tutte le borse, quindi sembrava quasi che non ci quotassimo più, quindi sì, è un grandissimo ternalotto, ma una volta che sei quotato, se l'azienda va bene, lo consiglierei a tutti gli imprenditori, devo dire, cioè nel senso non bisogna avere paura della quotazione.